Questo dolce suono dell'acqua e questo rumore meccanico dei marchi ingegni accompagna e avvolge il magico presepe costruito dal signor Mimmo Macchini, pensionato e residente a Riosas, una frazione del comune di Tavuglia. Un lavoro artigianale, il frutto di anni e ore di impegno, cura e passione. Quella passione che da sempre lega Mimmo allo spirito del presepe e alla felicità che riesce a regalare. Anni e anni di mercatini natalizi visitati per la provincia fino a quando un giorno di circa dieci anni fa, spinto dalla curiosità, ha provato a dare vita e movimento a una statuina che aveva in casa da tempo. Questa è stata la prima, perché questa l'ho vista, non so se è su Facebook o qualcosa del genere, e ora mi sono messo e ho cercato di farla un po' a modo mio, e poi dopo piano piano, perché proprio ti prende, trasporta questo lavoro, e allora ti metti anche la sera, piuttosto che il bar o via, magari ti rigiù una statuina, ti rigiù un qualcosina così e si va avanti piano piano. Un Natale dopo l'altro il presepe vivente ha preso sempre più forma, arrivando a contare ora circa 100 statuette, tra falegnami, panettieri, animali e mulini. Ma anche l'immancabile natività, che come in ogni presepe rappresenta il fulcro e colora di significato tutto ciò che la circonda. Delle numerose statuette la gran parte sono state realizzate da lui a mano, utilizzando il DAS, una pasta sintetica modellabile, alla quale è abbinato anche altri materiali come il legno e il cartone. E poi la curiosità degli alberelli, creati attorcigliando del filo di ferro per il tronco, mentre per la chioma, Mimmo ha ricavato delle foglioline di plastica da un vecchio tappeto. La cura dei dettagli e la maestosità di un presepe artigianale di questo tipo sono dei particolari che avrebbero avuto meno rilievo se non fosse tutto regolato dal movimento ripetuto delle diverse statuine. Ma questo si deve muovere, perché tenerlo fermo dice poco. Allora prova con un motorino, prova con un altro, poi compra il motorino a 10 giri, a 30 giri, a 5 giri, perché ognuno ha i suoi giri. Un movimento che viene generato dai fili elettrici che è riuscito a collegare alle statuine e per fare ciò ha dovuto munirsi di un vero impianto collocato sotto la struttura che regge l'intera opera. Un presepe che il signor Macchini custodisce con cura su uno spiazzale di casa sua, dove ad ogni Natale riceve la visita da parte di alcuni suoi compaesani attirati dalle novità che ogni inverno aggiunge all'operato finale. Anche se finito non lo possiamo mai considerare, visto che ogni anno ha in mente nuove idee per quello successivo. Con il materiale che ho già pronto per montare potrei arrivare, non diciamo un altro doppio di questo, ma quasi. La signora che esce da casa, vorrei rifare il castello più grande, invece di due uno solo, ma più grande. E poi ho questo mulino, parecchie cosine.